Bilanci falsificati e identità fasulle utilizzati per ottenere finanziamenti covid e prestiti bancari. La Guardia di Finanza di Asti ha scoperto e smantellato un'organizzazione che sarebbe responsabile di una truffa da 21 milioni di euro, oltre che di riciclaggio internazionale. Dieci gli arrestati, tra i quali due comaschi. L'indagine della finanza è sfociata oggi nell'operazione Warranty. I militari delle Fiamme Gialle hanno eseguito dieci misure cautelari, otto in carcere e due ai domiciliari. All'attività hanno partecipato i finanzieri di Erba e Olgiatecomasco, che hanno arrestato e portato in carcere due comaschi, residenti nelle due cittadine, accusati di essere tra i prestanome coinvolti nella maxitruffa. L'organizzazione, in base a quanto ricostruito dall'accusa, agiva tra le province di Asti, Milano, Monza, Como e Lodi. Per attuare la truffa, gli indagati avrebbero rilevato società già esistenti, utilizzandole per la frode, alterando e falsificando i bilanci, mostrando una situazione economica a Florida, per poi attuare gli inganni. Gli indagati mostravano ai notai documenti contraffatti o utilizzavano prestanome. Sono accusati a vario titolo di possesso e fabbricazione di documenti falsi e ricettazione di documenti risultati rubati, oltre che di percezione in debita. Gli indagati avrebbero incassato 375 mila euro di fondi Covid e avrebbero poi raggirato fornitori privati, acquistando merci poi non pagate per quasi 20 milioni di euro. Avrebbero poi ottenuto illecitamente finanziamenti bancari per quasi 2 milioni di euro. I finanzieri hanno rintracciato anche un flusso di denaro per circa 250 mila euro, trasferito prima in Bulgaria e Slovacchia, poi in Svizzera, per tornare infine in Italia. Un giro attuato, secondo l'accusa, per ripulire il denaro e utilizzarlo poi per riacquistare una casa in Brianza che era stata pignorata a uno degli indagati. Uno degli arrestati percepiva anche il reddito di cittadinanza.